Due novembre, il giorno dei defunti, un momento di ricordo e di preghiera. Siamo in questo mese in cui ricordiamo e commemoriamo i nostri fratelli defunti, che è un'esperienza della nostra vita, è una fase della nostra vita, come nasciamo questo mondo, siamo chiamati alla rinascita a quella celeste. La nostra vita sappiamo che è un passaggio e questo passaggio ce lo giochiamo tutto sulla legge dell'amore di Cristo. Lui ha dato la vita per noi e quindi anche noi siamo chiamati alla risurrezione. Questa vita ci viene donata e la dobbiamo ridonare al Signore. Allora tutti i nostri fratelli che ci hanno già preceduto in questo passaggio terreno li vogliamo ricordare come compagni di viaggio, come interlocutore per esprimere il nostro amore nei loro confronti e quindi la preghiera costante ci tiene viva i ricordi di questi nostri fratelli che ci hanno preceduto nella gioia e nella pace eterna. Quali sono state le tappe di questa cerimonia? Le tappe sono state tante, iniziate con la liturgia nella cappella del cimitero, poi siamo passati attraverso vari punti che richiamavano la nostra storia, i deportati, le vittime civili della guerra, le vittime militari, le vittime dell'aviazione, le vittime dell'esercito, le vittime ebrei e deportati. Ecco, tanti sono stati momenti in cui ricordiamo questi nostri fratelli e anche il loro valore, che con il loro valore hanno saputo dare testimonianza per lasciare ai nostri figli, alle generazioni futuri, un futuro migliore. Assessore, il 2 novembre è la commemorazione dei defunti al cimitero monumentale, un momento di preghiera ma anche di riflessione. Di riflessione, come istituzione, come regione, sicuramente una presenza accanto a tutte le altre istituzioni torinesi in questo caso e penso che le singole tappe di questa manifestazione, di questa mattina, ci facciano riflettere. In particolare io rifletterei sui morti sul lavoro, perché sappiamo che purtroppo i numeri continuano ad aumentare e forse le istituzioni debbono fare un passo avanti in quello che è il tema di prevenzione. Comunque è un momento di riflessione per noi tutti.